Il turismo in Italia è un'industria sempre più importante, ma è un'industria estremamente sensibile. Quindi dobbiamo stare attenti ai paradossi che questo aumento incredibile, oltre 50 milioni di visitatori, sta producendo nel nostro paese. Dobbiamo farlo mantenendo alta la reputazione dell'Italia, sia all'interno dei ranking internazionali che all'interno di quelli interni, ma con un occhio particolare al cambiamento di punto di vista. Cioè, vale a dire, l'Italia è un paese unico al mondo e come tale deve presentarsi. Il lavoro che dobbiamo fare è gestire appunto questo grande afflusso turistico che viene dall'aumento della mobilità nel mondo per continuare a mantenere il nostro paese unico e migliore e assolutamente il paese del sogno. È un convegno molto interessante che dimostra le potenzialità, le opportunità che avrà la crescita turistica nei prossimi anni, ma che invita anche a riflettere sia sulla validità degli indici internazionali che delle classifiche. Dobbiamo assolutamente governare questa crescita impetuosa che avrà il turismo in Italia nei prossimi anni, governare in modo intelligente.